Buongiorno, bentrovati, buona domenica. Oggi è il 27 marzo della quarta domenica di Quaresima. Nel Rittambrosiano è la domenica del cieco nato. Vi leggo l'inizio di questo lungo e bellissimo racconto evangelico che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9. In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo, cieco dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono. «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» Rispose Gesù, «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. «Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Parola del Signore. Questo è il miracolo che Gesù compie. Anzitutto smentisce la mentalità comune, e purtroppo anche oggi diffusa, che le malattie siano causate dalla volontà di Dio, sono una punizione per qualche nostro peccato, eccetera. No, non sono una punizione. Dio le permette, ma sono legate alla volontà di Dio in maniera molto diversa da quello che noi possiamo comprendere. Non sta a noi giudicare i giudizi di Dio. Noi non possiamo comprendere perché uno è malato, l'altro è sano, perché un ricco, empio sta bene e un malato, povero sta male. Non sta a noi giudicare. Sono giusti i giudizi di Dio e Dio solo li conosce. Non solo. Gesù dice che egli, questo povero, è così perché si compie in lui le opere di Dio e compie questo grande miracolo. Nel gesto che fa il Signore nello sputare per terra, nel fare del fango, vediamo un'allusione al gesto di Dio creatore, che dal fango della terra plasma il primo uomo, Adamo. Codio Gesù, con il fango, plasma una nuova vista a questo uomo. Ma questo uomo, per vedere, deve andare a lavarsi. Va alla piscina di Silue e si lava. E tutta la tradizione della Chiesa vede in questo gesto un simbolismo battesimale. Si lava e ci vede. Si lava e comincia a vedere in maniera totalmente nuova. Era cieco dalla nascita, ora comincia a vedere. Così è nel battesimo. Colui che si lava il fonte ha un nuovo modo di vedere. Certo, per la gran parte di noi che hanno fatto il battesimo da piccoli, questa cosa è poco comprensibile a livello esperienziale, ma è certamente comprensibile ed è da recuperare a livello spirituale. Il battesimo ci dà un modo diverso di vedere il mondo alla realtà. E ecco che poi il battesimo è la piscina di Silue, lui si lava la piscina di Silue e, interpreta l'Evangelista, Silue significa inviato. Giustamente dice Sant'Agostino, Silue si lavò nell'inviato, cioè nel Cristo. Fu battezzato nel Cristo e cominciò a vedere. E poi questo cieco che comincia a vederci diventa testimone di quello che gli è capitato e per questo incontra l'ostilità dei farisei che giungono perfino a cacciarlo fuori dalla sinagoga. Chi diventa cristiano e ha un nuovo modo di vedere la realtà può incontrare, anzi sicuramente incontrerà l'ostilità del mondo, ma non bisogna avere paura. E occorre sempre imparare dal cieco nato a rimanere fedeli a Cristo e testimoniare la verità che è conosciuto. Così si cresce nella fede. Ed è l'esperienza di questo cieco che dapprima dice che Gesù è un uomo che gli ha dato la vista, poi dice che è un profeta, poi dice che è uno che viene da Dio e quando ormai cacciato dalla sinagoga lo incontra di nuovo dice davanti a lui Credo, Signore, e si mette in ginocchio. Impariamo dal cieco ad avere fede nel Signore. Impariamo da Lui ad essere testimoni di Gesù davanti a tutti. Buona domenica, buona quaresima e continuiamo a pregare per la pace. Sia lodato Gesù Cristo.